L'ispirazione è tratta dal film Memorie di una Gensha. Signori e signori, è con piacere che vi presento Mysterious Gensha dell'atelier Rondine Maison. Signori e signori, signori e signori, signori e signori e signori. Signori e signori, signori e signori e signori e signori. Signori e signori, signori e signori e signori e signori e signori. Signori e signori, signori e signori e signori e signori e signori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti. uno psicologo. e a tutti. a tutti.